Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Nella penombra avvolgente del destino, Caroline Smith emerge come un faro di coraggio e vulnerabilità. Oltre alla sua maestria indiscussa nel mondo professionale, si rivela come un'anima che sfida apertamente le avversità. Attraverso l'antica magia di Instagram, ha svelato un capitolo doloroso del suo viaggio, la lotta contro una malattia implacabile. Con un turbante come simbolo, ha condiviso le sfide e le sofferenze delle terapie oncologiche, ma senza mai cedere alla disperazione. Da una stanza d'ospedale, tra l'odore acre del sanitario e le pareti rigide, ha offerto al mondo un sorriso carico di speranza. Nascosto dietro occhiali avvolgenti e un cappellino nero. Con eleganza e determinazione, ha esteso gli auguri natalizi ai suoi fedeli seguaci, evocando un raggio di luce in un tunnel oscuro, Merry Christmas and Happy New Year cujanuar 2024, eppure, la sua battaglia è lontana dall'essere conclusa. In una mattina di lunedì, ha delineato con determinazione il percorso futuro, sto per affrontare l'ultima chemio del 2023, ha annunciato, e a gennaio, mi attende una nuova sfida con la TAC. Mentre la metropoli continua a girare, la sua storia risuona come un monito di resilienza e speranza in un mondo in costante movimento.